Io credo che è stato un messaggio universale. Io sentì il dovere di, in questo pellegrinaggio di fede e di penitenza, di andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio. E soltanto ascoltandolo si percepisce questo. E parlando di messaggi, io dirò che è un messaggio per tutti. È un messaggio per tutti. E lui è una persona che ha quella saggesa e anche ha la prudenza. Lui mi diceva, io non, da dieci anni, credo, mi ha detto, non ricevo gente che viene, sì, a visitarmi, ma con altri scopi politici o culturali, no. No, soltanto religiosi, no. E lui è stato molto rispettuoso, molto rispettuoso nell'incontro. Anche io mi sono sentito onorato. Anche lui, anche nel saluto, mai si alza. Non si è alzato per salutarmi per due volte. E lui è un uomo umile e saggio. A me ha fatto bene all'anima questo incontro. È una luce. Il Mosul, ho detto un po' a un passant, quello che ho sentito. Quando mi sono fermato davanti alla chiesa distrutta, non avevo parola, non avevo parola. Non credere, da non credere. Non solo la chiesa, ma anche lì. Le altre chiese, anche una moschea distrutta. Si vede che non era d'accordo con la gente questa. Non è da non credere.